Roseto degli Abruzzi avrà un nuovo distretto sanitario di base. La struttura sarà realizzata in piazza Marco Polo, un'area pubblica diacente al palazzetto dello sport ed in grado di intercettare tutto il bacino di utenza della vallata del Vomano e Pineto. Un risultato importante per il comune di Roseto, ASL di Teramo e Regione Abruzzo. È una progettazione importante, un traguardo importante per la città di Roseto, per la Regione, per la provincia che comincia oggi, ovviamente bisogna adesso seguire un cronoprogramma attento con un rispetto della tempistica puntuale. Si parla e si tratta di fare un nuovo polo sanitario che mette insieme servizi importanti, insieme a una residenzialità che guarda le persone più deboli della nostra comunità, dagli anziani, dai fragili, dai cronici, dai portatori di handicap, insomma tutte quelle persone che rappresentano la parte dell'assistenza anche del futuro, perché una popolazione che invecchia, e meno male che invecchia, vuol dire che si vive di più, ha bisogno di servizi territoriali adeguati, migliori, che attenzionano di più proprio le persone sole di oggi che sono loro. Ecco, tutto questo facciamo e lo facciamo utilizzando un investimento di 5 milioni di euro, 8 mila metri quadri di area esterna e interna, 4 mila all'interno, 60 posti letto dedicati a loro, servizi a partire dalla diagnostica, a tanti altri, un vero e proprio polo sanitario che guarda una città importante e soprattutto ha un bacino di utenza importante. Ultima cosa, lo facciamo con il pubblico. Si parla sempre del rapporto pubblico-privato, sono posti letto dedicati ai cronici, ai fragili, ai soli, agli anziani, ai diversamente abili, che sono appunto di natura pubblica, di titolarità pubblica, di servizio tutto pubblico. Sono molto orgoglioso di questa bella collaborazione perché l'idea è venuta anche da un confronto attento con l'amministrazione comunale sul contenuto dell'assistenza da erogare ai cittadini e alle comunità e un ringraziamento ovviamente anche alla AS di Teramo perché si è impegnata a rispettare quelli che erano gli intenti politici tra noi regione e l'amministrazione comunale. Grazie.